Sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Salerno 120 falsi poveri. Secondo gli inquirenti hanno beneficiato di contributi assistenziali e sussidi vari erogati dal Comune di Sarno e dall'Impse. In particolare sono state esaminate le posizioni di coloro che in base alle autocertificazioni ISEE hanno dichiarato di vivere in situazioni di difficoltà economica o di indigenza. Diverse sono state le tipologie di contributi esaminati dai militari discafati, tutti elargiti, a cittadini che hanno dichiarato di possedere redditi inferiori alle soglie previste dalla legge. I controlli sono stati effettuati nei cinque anni, dal 2014 al 2018. Su 1772 posizioni 120 sono risultati irregolari. Sono così scattati 116 verbali e 4 denunce a piede libero alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore per il reato di malversazione e danni dello Stato. I responsabili hanno indebitamente percepito contributi oltre la soglia di 4.000 euro fissata dal Codice Penale. I 55 hanno indebitamente percepito il reddito di inclusione per un ammontare complessivo di 100.000 euro.